andiamoci a vedere questa nuova vendita in via tortona numero 22 quartiere finale di marassi vicino al casello di genova est palazzo è questo bel palazzo appartamento al primo piano saliamo a vederlo eccoci qui ad entrare in casa bell'ingresso grande e spazzoloso siamo chiusi la porta alle spalle dall'ingresso partono tutte le porte qui abbiamo il bagno la camera l'altra camera e la cucina dove entriamo molto grande non puoi vedere con questi mobili che se interessano rimangono angolo panca cucina con la finestra e la porta finestra che da verso il balcone accediamo al balcone dove l'accesso c'è anche dalle due camere mi vedi nello specchio questa è la vista che c'è verso la collina di via delle ginestre il bambino di marmo della cucina questo è il soggiorno vanno di mezzo tra la cucina che abbiamo appena visto la camera da letto che vediamo dopo usciamone per andare a vedere la camera da letto anche questo molto grande anche questo con finestra e porta finestra che accede al balcone quindi sia la cucina che la sala che il soggiorno hanno accesso sul balcone questa è la vista della camera e qui ritorniamo sul balcone con la stessa vista disposizione è tutta a mezzogiorno siamo adesso alle 3 del pomeriggio sole pieno arriva un po' in mattinata inoltrata poi fino a sera tardi tanto sole qui sotto c'è il piazzale condominiale dove qualche parcheggio con un po' di fortuna si trova siamo tornati in casa per vedere il bagno in perfette condizioni le astellature e le impianti di qualche anno fa ma ancora tutto a perfezione perfettamente funzionante la specchiera la doccia questa invece è la dispensa discretamente capiente lungo il corridoio che dal portone porta a casa sulla sinistra sulla sinistra c'è questa mega cantina grande alta con finestra saranno circa 4 metri di profondità per 2 metri e 70 2 metri e 80 di larghezza potrebbe quasi diventare uno studio quanto è grande vicino a casa facciamo ragazzi Grazie per la visione